Andy Hercel dimostra la sua ferma determinazione a mantenere i propri confini personali e professionali, indipendentemente dal fatto che ciò significhi rinunciare a un progetto che poi si rivelerà un grande successo. L'ultima occasione in cui Hercel ha preso questa coraggiosa decisione è stata con il progetto Disney e tra me e il mondo. Una serie che alla fine ha visto protagonisti di Metozdemir e Bugra Gulsoy, riscuotendo un notevole successo.Tutto ha avuto inizio nel 2022, quando Disney ha fatto il suo ingresso nel mercato turco. Così ha proposto a Hercel di dirigere la prima serie dell'azienda nel paese. Tuttavia, l'attrice, nota per la sua integrità e i suoi principi, ha deciso di rifiutare l'offerta a causa di scene che considerava troppo audaci per il suo conforto. Nonostante le trattative, la sceneggiatrice rimase firma nella sua visione creativa, il che portò, secondo Diez Minutos, alla decisione di Andy di rifiutare il progetto. Curiosamente, a quel tempo, c'era la possibilità che Andy Hercel condividesse lo schermo con il suo fidanzato di allora, Kerem Bursin, poiché la loro relazione è rimasta stabile. Con il passare del tempo, però, i rapporti tra i due cominciarono a mostrare segni di indebolimento e in questo contesto si cominciò a prendere in considerazione il nome di Bugra Gulsoy come possibile sostituto per il Ruolo principale, così come l'opzione di mantenere Bursin nella distribuzione. Tuttavia i produttori avevano ben chiaro che la combinazione Hercel-Bursin sarebbe stata una garanzia di successo e alla fine, con il rifiuto di Andy, il ruolo fu offerto a Diez Minutos Demir, cosa che scatenò tensioni nella relazione tra Hercel e Bursin. A quanto pare, Andy non sopportava il pensiero che il suo allora fidanzato condividesse scene sensuali con Ozdemir. Alla fine anche Kerem Bursin ha deciso di respingere il progetto. Bugra Gulsoy si è così unito a Diez Minutos Demir in una serie che è stata uno dei maggiori successi del 2023. La domanda che resta nell'aria è se Between the World and Me avrebbe ottenuto lo stesso successo con Andy Hercel e Kerem Bursin nei ruoli principali. Molti ne sono sicuri, ma questa volta il destino ha preso una piega diversa.